Buongiorno. Ciao. Scusa, posso chiederti una cosa? Sì, certo, dimmi. No, perché ti stavo guardando e... Eh, ascolta, guarda il numero, non te lo do, poche storie. No, non è quello, sono un po' imbarazzato, ma devo chiederti... Niente imbarazzo, con te non ci esco, sono impegnata, cioè... Ma no, non era quello. Dimmi. Volevo solo chiederti, come cavolo fai a fare attività fisica vestita così? Beh, era questa la domanda. Comunque, guarda, ci riesco benissimo e poi mi distingo. Ah, su questo non ci piove. Vabbè, magari questo non sarà proprio l'outfit adatto, ma sicuramente questo orologio è adatto a fare sport. Ah, però, questo è lo smartwatch Huawei Watch GT2e? E che bello che è in questa colorazione verdementa. Sì, grazie, lo so. Questo è il Watch GT2e, uno smartwatch prodotto da Huawei. Il quadrante è dotato di display AMOLED HD da 1,4 pollici, circa 3,5 cm, e ha una risoluzione di 454 x 454 pixel, che rendono le scritte chiare e ben distinguibili. La densità è di 326 ppi. Il quadrante è intercambiabile tra moltissimi modelli offerti da Huawei. Il display è poi incassonato in una protezione di metallo opaco. Anche i cinturini sono intercambiabili e hanno tutti la stessa larghezza, circa 2,2 cm. Si tratta di un cinturino a taglia unica, costruito con poliuretano termoplastico, un materiale che assomiglia alla gomma e che rende flessibile ma resistente la tenuta intorno al polso. Le fessure sono funzionali, ovviamente, sia per la regolazione intorno al polso, sia per far respirare la pelle sullo stesso che, svolgendo attività fisica, dovrebbe sudare. Il colore menta verde è particolare e si adatta perfettamente alla concezione sportiva che questo smartwatch ha, ma è altrettanto adeguato per essere indossato sotto indumenti più eleganti. Questo smartwatch è pensato per lo sport ed è dotato di tutte le impostazioni che accompagnano chi lo usa nelle attività fisiche. Supporta ben 85 modalità di allenamento, come ad esempio arrabbicata su roccia, parkour, street dance, skateboard, nuoto e tanto altro. È dotato di localizzatori GPS e GLONASS con un preciso tracciamento, in tempo reale per 15 sport all'aperto. Inoltre, è anche resistente all'acqua, fino a 50 metri di profondità. Tra le funzionalità che offre il nostro Huawei Watch GT 2e, troviamo la possibilità di misurare il nostro livello di ossigeno presente nel sangue. Inoltre, lo smartwatch è in grado di conteggiare le calorie e di effettuare un monitoraggio attivo del battito cardiaco, del sonno e dello stress in tempo reale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Inoltre, può riprodurre musica tramite Bluetooth, leggere le notifiche per quanto riguarda le chiamate, i messaggi, le e-mail. Huawei Watch GT 2e supporta la tecnologia Bluetooth 5.1, che gli consente di associarsi a dispositivi anche diversi da quelli Huawei. Infatti, lo smartwatch è compatibile con tutti i sistemi Android 4.4 e successivi e con tutti i sistemi iOS aggiornati 9.0 o successivi. L'associazione è davvero rapida, basta attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo cellulare e cercare il nome dello smartwatch. Al cuore di questo smartwatch troviamo il processore Kirin A1 con 16 MB di RAM e 4 GB di memoria flash. Infine, passiamo a parlare della batteria. Quest'ultima è da 455 mAh e garantisce fino a due settimane di autonomia. Potete trovare lo smartwatch Huawei Watch GT 2e su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Sì, e se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e seguirci anche su Instagram. Mi raccomando, attivate la campanellina per non perdervi nemmeno uno dei nostri video. Sì, in effetti il suo outfit è poco o per niente sportivo, ma l'orologio lo è assolutamente. Arrivederci. Pronto? Ma arrivederci cosa? Quello è il mio smartwatch. Ehi! Chiedo scusa, questo è suo e questa anche. Ottima mira comunque.